Un po' di fauna con la marmotta, una marmotta vistata vicino nell'Alessinia Alense, lo scatto è di Paolo Dei Michei e chiudiamo con una bellissima Dalia, quindi con la flora immortalata da Patrizia Pontalti. Grazie per averci inviato le foto, continuate a farlo, io mi fermo qui, vi lascio con le previsioni del tempo.